Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e questa è Rotazione Settimanale, rubrica dove ogni settimana cerco di mettere in evidenza gli articoli, secondo me, più interessanti in vendita dai vari venditori, zona nera, posti di blocco, base operativa, bara, terminale, rifugi, chiaramente è solo una mia opinione, non è detto che i prodotti evidenziati facciano davvero il caso vostro. In descrizione trovate i minuti di riferimento di ciascuna zona, al solito zona nera che lascio sempre per intero in quanto la più dispendiosa da visitare, spoiler, questa settimana la reputo un po' povera di oggetti convenienti. zona 6, maschera nomade con probabilità di critico e speccata armi da fuoco, giubbotto tattico, vigore con corazza e protezione dagli elite, non male direi, zaino alfa bridge, elettronica con abilità rapidità, ginocchiere frontline, vigore con protezione dagli elite e più 10% danni corazza, anche questi non male, con un roll su più corazza sarebbe meglio, fondina frontline con abilità rapidità e guanti ultimo rimedio, armi da fuoco con danni critici, assalto e salute per uccisione. zona 5, caricatore con 27.5% di ricarica, 4% danni critici e 2.5% probabilità di critico, silenziatore, molto interessante, con danni colpo alla testa, probabilità e danno critico, mirino laser con precisione, stabilità e ricarica, e mirino olografico con probabilità di critico, danni colpo alla testa e gittata, anche questo non mi dispiace affatto. zona 4, mod vigore che aggiunge potenza e abilità per gli ibridi, quindi vigore elettronica, e mod prestazioni molto interessanti che aumentano del 6% le cure del pronto soccorso, skill che praticamente usiamo tutti. zona 3, armi, M9 militare con nocivo, UMP45 con predatore, meticoloso e agguato, AK47 con crudele, determinato e competente, molto interessante per un'ipotetica build al Fabridge, leverei quel determinato in cerca di un distruttore magari, certo, 416.000 fonti in zona nera non sono briciole, e continuo a pensare che il costo sia ancora un po' troppo alto. super 90 con violento, rapido e brutale, non sono un fan del super 90 onestamente, MK20 con determinato distruttore e rapido, bene distruttore, gli altri così così, ed un M60 con spietato, violento e brutale, peccato per violento, ma gli altri due non sono malvagi su un fucile mitragliatore come quello. Però il prezzo è quello che è. infine zona 2, maschera con duraturo ed elettronica, giubbotto con rapido, speccato vigore, zaino tattico con ingegnoso ed elettronica, ginocchiere con benestante protezione dagli elite, fondina con agile, dei roll di attributi, peccato che il talento non sia proprio top. infine guanti con astuzia, danni pompa critici ed elite, insomma per me niente di conveniente a questi prezzi. Passiamo ai posti di blocco dunque, sulla 46esima Ovest, modo elettronica, che aggiunge corazza consigliata per chi cerca una build elettronica senza disegnare la robustezza. 42esima Ovest, questo ACR tattico molto interessante per build al fabbricio, con reattivo, letale e competente già sbloccato, davvero favoloso a mio giudizio se usato per quella build, peccato per quei 400.000 fondi in zona nera, ma se c'avete i soldi. 34esima Ovest, modo prestazioni che aumenta del 6.5% il raggio esplosione della mina a ricerca, 31esima Ovest, modo prestazioni che aumenta del 5.5% il raggio di esplosione ma della bomba adesiva, e questo è quanto onestamente, niente di che. Vaso operativa, venditore equipaggiamento zona nera, segnalo un ferma mano che aumenta la velocità di ricarica del 28.5%, danni critici e stabilità, venditore armamenti avanzati, dipartimento sicurezza, una pregevole pistola 93R con brutale, che potreste anche considerare, alto ratio di fuoco per una pistola, non è malvagissima secondo me. Un MP5ST interessante, con competente preciso e brutale, non sono un fan sfegatato del modello ST, ma comunque per i talenti io ve lo segnalo. Interessante caricatore steso, che mette del 110.5% la sua dimensione, 4.5% ricarica più veloce, 4.9% cadenza di fuoco aumentata, lo consiglio. Prima di scendere nel terminale, vi ricordo che è possibile riscattare gratuitamente dalla venditore ricompense da riscattare i due berretti a tema natalizio, c'è tempo fino al 31 dicembre per prenderli. Ok, venditore equipaggiamento speciale, un interessantissimo P416 con feroce, spietato e violento già sbloccato, molto interessante per una build Alpha Bridge, di nuovo per PvP, magari quel feroce lo toglierei cercando un distruttore. Per quanto riguarda i set, a discrezione, ma questo areatore Reclaimer armi da fuoco e danni corazza nemici non mi sembra per niente malvagio, interessante giubbotto poi con robusto e protezione dagli elite, ricalibrerei salute per uccisione con corazza onestamente. Buono il giubbotto del Nomade, così speccato, con vigore e corazza, così come il giubbotto Stella Solitaria che segue più o meno lo stesso modello robustezza, ma qui il top è questo boost Alpha Bridge con ottimi roll, consigliatissimo. Buon giubbotto, front line senza corazza che quindi ricalibrerei al posto di salute per uccisione, ginocchiere tattico con elettronica e livello corazza, buone per build elettronica, fondina assalitore con livello corazza ma punterei più su vigore invece che parti elettroniche, bella fondina cacciatore con corazza e vigore, interessante, interessante silenziatore con il 17.5% di danni colpo alla testa aumentati, ottima impugnatura che aumenta l'agitato ottimale del 48%, oltre che stabilità e danni critici. Infine venditore progetti, progetto per Super 90, non mi convince molto come detto, e progetto MG5, nel PTS era a dir poco OP. La versione finale è più umana, non ha un grande caricatore, diciamo che è una mitragliatrice decente, ma non esagerata come lo era nei test. Progetto poi per impugnatura che aumenta danni critici più 2 bonus casuali e il mirino che aumenta l'agitato ottimale più 2 bonus casuali. In più il progetto per le mod prestazioni è quella vigore che non vedete perché ho già acquistato, quindi quella vigore la straconsiglio per quelle prestazioni, si potrebbe prendere in considerazione se vi piace scommettere. Bene, ora passiamo ai vari rifugi. La grotta, mod prestazioni che aumentano del 4% i danni bomba adesiva, il reparto zaino che aggiunge il 200% di armi da fuoco e vigore a potenza abilità, speccata armi da fuoco con un rerollabilissimo guadagno risorse abilità speciali in cambio di corazza e mod prestazioni che aumentano del 5% la durata dell'impulso. Mancini, ottima mod elettronica che aggiunge livello corazza e il prezzo è praticamente più che abbordabile. Il firewall maschera con l'ottimo canto del cigno come talento, speccata armi da fuoco con probabilità di critico è un talento che mi piace particolarmente questo. Ed infine la cripta con impugnatura che aumenta l'agitata ottimale del 43%, ricarica del 4.5% e precisione del 2%. E questo è quanto, amici, io non posso fare altro che augurarvi delle buone feste e ringraziarvi ancora per il vostro supporto, per tutto ciò che mi avete dimostrato quest'anno e non solo. E naturalmente vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Elien vi saluta, buon Natale, agenti! Amati! Amati!